salve benvenuto su questo canale grazie per aver scelto di seguire questo canale benvenuto o benvenuta tu che stai guardando questo video lo stai guardando perché hai bisogno di conoscere di avere delle informazioni aggiornate sul tema sui temi di cui trattiamo quindi come lo sapete quindi il nostro canale tratta spesso dei temi inerenti all'immigrazione non soltanto per gli stranieri ma anche per gli italiani che vogliono o che lavorano con i stranieri quindi per questo oggi parliamo torniamo con un altro video in cui vi portiamo alcuni importanti aggiornamenti che sono stati pubblicati dal ministero dell'interno inerenti alla sanatoria quindi come lo sapete c'erano tanti dubbi piano piano il ministero stasera e sta svelando alcune alcuni dettagli alcune cose che bisogna conoscere quindi per questo torniamo per parlarvi oggi di tre argomenti più importanti e poi piano piano proponeremo altri video per i di darvi dei dettagli su questi e argomenti quindi io che vi sto parlando sono gammarieri non salva fondatore del sito per il messo di soggiorno.org anche sono manager di questo canale che state seguendo e poi l'invito prima di iniziare questo argomento a schiacciare mi piace su questo e su questo video se ti piace sugli altri video che abbiamo pubblicato anche soprattutto ad iscrivervi in modo che qui sotto come lo vedete in modo che possiate seguire le nostre prossime pubblicazioni andiamo subito quindi l'argomento di oggi parla della sanatoria della regolarizzazione specificamente oggi voglio parlare di due argomenti e quali sono i cittadini che devono che hanno diritto di potersi candidare di presentare su questa sanatoria prima di tutto come lo sapete già abbiamo parlato di questo abbiamo pubblicato gli articoli sul sito per il messo di soggiorno punto org e però c'è una cosa che non era tanto chiara che non c'erano alcune categorie di persone delle persone che hanno i permessi di soggiorno temporanei e c'era un problema perché il decreto non li menzionava per quindi per questo motivo oggi vi propongo le domande e le risposte pubblicate dal ministero dell'interno per poter capire insieme a voi cosa e chi deve poter partecipare quindi la prima parte parliamo di chi deve nella seconda parte quindi parleremo della situazione dei richiedenti asilo mentre nella terza parte e ultima per questo video vedremo un attimo e dopo chi avrà un premesso di soggiorno cosa potrà fare quale tipo di lavoro potrà svolgere quindi iniziamo subito e la prima domanda che è stata fatta dal ministero e questa quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal comma 1 articolo del decreto 103 del decreto legge 34 del 2020 sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che nel caso di nuova costituzione di un nuovo rapporto di lavoro avete capito no allora ci torno chiarisco un attimo prima di tutto e spiego il comma 1 dell'articolo 103 cosa dice a chi si riferisce questo comma si riferisce prima di tutto ai datori di lavoro che vogliono mettere in regola o che vogliono assumere i nuovi i lavoratori stranieri i nuovi o un nuovo lavoratore straniero quindi per questo questa risposta si riferisce a questo tipo di situazione allora nella risposta che dà il ministero appunto un attimo torno sulla domanda quindi la domanda se ciò di riassumirla o di sintetizzarla è questa e quindi chi sono i cittadini che possono essere messi in regola chi può e allora torno sulla risposta che è stata data che è questa in cerco di leggerla poi subito dopo farò un commento per poter aiutarvi a capire un attimo cosa dice allora il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale quindi italiano prima dell'otto marzo quindi rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti di protezione internazionale a prescindere da quando hanno presentato istanza quindi quando hanno fatto la domanda i denegati ricorrenti quindi le persone che stanno facendo dei ricorsi irregolari quindi le persone che sono in Italia in un modo irregolare e i possessori di permesso di soggiorno ancora valido però che non permette di lavorare gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno eccetto appunto quelli casi previsti dal coma 10 nella lettera a dell'articolo 103 e ricordo che su questa situazione sono delle persone che hanno avuto delle condanne che hanno avuto delle espulsioni a poi perché si sono comportati male però delle persone che hanno avuto delle espulsioni soltanto perché erano irregolari sul territorio nazionale anche loro possono regolarizzare la loro situazione la loro presenza in Italia mentre quindi rispondo a tante domande delle persone che ci hanno contattato le persone che hanno dei reati che hanno dei precedenti penali queste persone non possono presentarsi quindi a loro si riferisce il coma 10 nella lettera a dell'articolo 103 del decreto di lancio quindi loro queste persone non possono mentre chi ha avuto un'espulsione perché era irregolare non aveva un permesso di soggiorno valido in Italia quella persona può presentare la domanda per avere un permesso di soggiorno e poi può anche essere regolarizzato o essere assunto un titolare di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di soggiorno valido allora quali sono i permessi di soggiorno non convertibili? allora nella risposta del ministero dà alcuni esempi però appunto nella risposta dice che non sono tutti però questi esempi sono questi permessi di soggiorno per motivo di studio quindi persone che sono venute in Italia con un visto di turismo per cure mediche, motivi religiosi e protezione speciale quindi anche queste persone possono essere regolarizzate o essere assunte per poter lavorare in Italia con questa attuale regolarizzazione penso che questo sia chiaro riassumendo queste categorie possono essere assunte dai lavoratori che hanno appunto diritto come avete visto nell'articolo che abbiamo pubblicato precedentemente e poi se sono assunti queste persone, queste categorie che rientrano quindi i richiedenti asilo delle persone che stanno facendo dei ricorsi delle persone che hanno i permessi di soggiorno ancora validi però che non permettono di lavorare e poi ci troviamo anche delle persone che hanno i permessi di soggiorno che di solito non permettono di essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro quindi questo penso che sia chiaro vi lascio tutto un link qua sotto in descrizione quindi andate a leggere tranquillamente ci lascerò tutta la risposta in modo che possiate leggere con calma e poi ritorno subito su un'altra domanda che è anche altrettanto importante inerenti a richiedenti asilo lo sapete, tante persone sono poste questa domanda se bisogna rinunciare alla domanda che è stata fatta per richiedere la protezione internazionale o l'asilo politico oppure se si può essere regolarizzati e portare le due pratiche insieme la domanda che ha ricevuto il ministero è questa qua uno straniero che abbia presentato richiesta di protezione per richiedere permessi di soggiorno per motivo di lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione deve rinunciare alla richiesta quindi alla richiesta di protezione allora la risposta del ministero è questa qua ve la leggo subito e poi facciamo un commento per richiedere permesso di soggiorno per motivo a seguito della procedura di regolarizzazione il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale nel caso in cui dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli quindi cosa dice questo? questo significa che se non c'è bisogno di rinunciare alla domanda che è stata fatta per la protezione internazionale dopo si avrà due risposte positive quindi se uno ha tutti i requisiti per poter chiedere partecipare alla sanatoria a questa regolarizzazione lo può fare e quando la prima risposta che uscirà quindi inerenti al permesso di soggiorno quindi per il motivo di lavoro e poi in seguito uscirà quell'altra per il motivo di protezione internazionale il richiedente potrà scegliere quale tipo di permesso di soggiorno mantenere quindi bisognerà optare quindi scegliere uno dei due tipi di permesso di soggiorno quindi il ministero è chiaro non c'è bisogno di rinunciare c'erano tante persone tante questure che hanno già iniziato a fare filmare dei richiedenti di rinunciare alla domanda quindi il ministero dell'interno lo dice chiaramente non c'è bisogno di rinunciare alla domanda di protezione internazionale che è stata fatta allora prima di finire nell'ultimo punto ricordo se non ti sei ancora iscritto di farlo in modo che comunque i prossimi aggiornamenti possano esserti notificati tranquillamente senza che tu faccia qualcosa allora l'ultimo punto riguarda il permesso di soggiorno quindi supponiamo uno fa tutta la procedura lo finisce allora cosa può fare? e quindi se uno lo fa in quanto lavoratore domestico significa che dovrà sempre lavorare nell'ambito domestico oppure farà altra cosa quindi il ministero lo dice chiaramente quindi alla fine la domanda è questa un lavoratore dopo aver ottenuto a seguito della regolazione il permesso di soggiorno può essere impiegato solo nei settori indicati in articolo 103,3 del decreto legge 34-2020? allora questa è la domanda la risposta è chiara è che non c'è bisogno alla fine non c'è bisogno di rimanere sempre nel stesso settore una volta che si otterrà il permesso di soggiorno per motivo di lavoro si potrà lavorare anche in altri settori di lavoro quindi non c'è bisogno di rimanere sempre lavorando in agricoltura oppure non c'è bisogno di rimanere sempre lavorando come domestico quindi si può evolvere si può cambiare un altro tipo di lavoro in modo che comunque si possa sempre dimostrare di percepire un reddito importante per poter rinnovare un permesso di soggiorno per poter vivere in Italia ricordo questo perché per vivere in Italia chi ha un permesso di soggiorno diversamente ha gli chiedenti asilo per rinnovare deve dimostrare che ha un reddito importante un reddito non inferiore all'assegno sociale quindi per questo bisogna sempre lavorare non dire che sto prendendo la disoccupazione sempre impegnarsi anche se capita per poter sempre avere un reddito per rinnovare senza problemi grazie per aver seguito questo video se ti è piaciuto metti un mi piace se non ti è piaciuto scrivicelo mandaci una mail e poi vedremo cosa non ti piace magari ne discutiamo insieme quindi grazie per aver seguito questo video ci vediamo nel prossimo video in cui parliamo anche di altre categorie tra cui anche il lavoro domestico e le categorie anche datori di lavoro grazie mille e poi a presto ciao ciao